Le attrezzature scolastiche, banchi e sedie della scuola elementare qua di Nago oggi partono. Dove sono diretti, Presidente? Allora, abbiamo chiesto al Comune di Nago Torbole se ci donano gli arredi scolastici dismessi e li regala all'Associazione Nazionale Alpini di Trento. E allora il Comune dona all'Associazione Nazionale Alpini di sezione di Trento, in collaborazione con le locali associazioni alpini di Nago e di Torbole, 190 banchi, 10 cattedre, 190 seggiole, 10 armadi, 5 tavoli riunioni e 10 lavagne che sono all'interno delle scuole primarie di Nago e di Torbole, ormai inutilizzate. Viene l'esercito con due camion dagli alpini Pinerolo, li carichiamo sui container e verranno portati in Afghanistan tramite nave per delle scuole, per delle iniziative che hanno fatto gli alpini per la missione di pace in Afghanistan e li doneranno ai locali dell'Afghanistan.